Buongiorno a tutti, sono Arianna, sono iscritta a 5 corsi dell'Accademia dello Chef di Giglio. Che dire, i corsi mi stanno piacendo veramente molto, è una lezione tira l'altra, mi piace molto la maniera molto dettagliata e semplice dello Chef di spiegare i vari argomenti, li trovo dei corsi veramente ricchi di contenuti, veramente c'è di tutto, qualsiasi cosa si possa desiderare sapere, lo Chef alla fine ne parla e mi piace molto anche la questione dell'essere seguiti, nel senso che c'è la possibilità appunto di interfacciarsi con lo Chef per qualsiasi dubbio e lo Chef devo dire che è veramente molto veloce nella risposta e come sempre molto esaustivo. Che dire, un'altra cosa bella è il poter frequentare le lezioni quando si vuole, essendo io una mia mamma, diciamo che per me è la perfezione in quanto posso conciliare i miei impegni giornalieri e appunto fare questa cosa per me che per me è stato un bellissimo regalo, quindi lo consiglio vivamente a tutte quelle persone che, anche persone che magari già ne sanno, ma vi assicuro che lo Chef troverà qualcosa che voi non sapevate, per cui veramente mi sento di consigliarlo caldamente e niente, io continuo con le mie lezioni. Ciao a tutti!